Ciao a tutti ragazzi Allora, io volevo dirvi su una cosa che mi sono dimenticato di dirvi Allora, volevo... Avevo detto che Francesca doveva fare il quarto anno, giusto? Ecco E siccome lei ha già fatto i 18 anni e lì nella nostra scuola i ragazzi fino ai 18 anni non vanno più a scuola e praticamente doveva aspettare fino ad agosto la risposta del suo prof ma non l'hanno più chiamata e quindi vuol dire che non la prendono Vabbè, lei è felice perché almeno si riguarda il più allo stage ovviamente Difatti adesso avevo pensato di fare più lo stage più giorni di stage e niente o magari come è comoda lei gli stessi giorni che andava prima e quindi niente volevo solo dirvi questo che lei non l'hanno più chiamata per andare a scuola perché non c'hanno i soldi, tra parentesi e continuerà a fare lo stage e niente ragazzi ci vediamo Ciao ciao